Roberto Dallavalle, Stone Italiana, vi occupate di pietra, marmi, in che cose innovate? Innoviamo perché noi ricomponiamo determinati prodotti e soprattutto il nostro ideale è il colore, colore che mi sono portato da un'esperienza di un bel po' di anni fa, quindi 38 anni fa, quando io sono uscito da un settore che è la stampa della carta per entrare in questo prodotto e quindi portare il colore. Come mai ha deciso di uscire da un settore per passare ad un altro che è completamente diverso, passiamo dalla stampa all'edilizia? Ho deciso perché la mia vita è cambiata, è cambiata perché la cosa mi proponeva al mondo intero con questa idea, infatti io sono il primo produttore al mondo di questo materiale e quindi il primo a entrare in produzione al mondo, quindi questa mi attraeva anche perché avendo studiato un po' di lingue era proprio la proiezione naturale che mi stava dentro, per cui ho deciso di fare e cambiare, fare questo salto di qualità. Spieghiamo in cosa consiste questo prodotto. Sì, allora è una composizione, cioè noi uniamo dei materiali naturali, in questo caso può essere il marmo e o il quarzo, diciamo che inizialmente abbiamo fatto con il marmo questa unione, diciamo questa miscela, attualmente da parecchi anni facciamo il quarzo, il quarzo che è adattato, si adatta per parecchi lavori, in particolare stiamo lavorando molto nel settore delle cucine, per i piani cucina. Quindi questo prodotto è un prodotto molto resistente e noi diciamo che prima di iniziare, di prendere la decisione alle signore, devono fare bene i propri piani, per fare bene i propri piani dovrebbero usare il nostro materiale. Voi lavorate con grandi nomi, ne può citare qualcuno? Ma ne ha citati un po' già il presentatore Roberto Puliero, ma se vuole ne ha dimenticato qualcuno. Allora fra gli Armani, Versace e i Trussardi lavoriamo con i maggiori architetti del mondo, in particolare Fuxas, che abbiamo fatto dei bellissimi progetti, abbiamo anche lavorato con George Mayer in America, stiamo lavorando con Stark, eccetera, eccetera. Quindi oltre alle grandi firme abbiamo i grandi architetti che per fortuna hanno capito che il nostro prodotto è talmente versatile che si può usare in svariati settori. Può dare ai giovani un messaggio positivo? Sì, il messaggio positivo è quello che dopo purtroppo questo periodo bruttissimo, io vedo assolutamente e ho la prova in questi giorni, domani ho degli incontri già a livello mondiale, ho un gruppo di cinesi ai quali io sono riuscito a vendere il prodotto, il che è tutto dire. Quindi per i giovani c'è solo speranza, speranza, volontà e entusiasmo. Grazie.